ariete una buona luna accompagna il buon umore e vi ricarica di entusiasmi il periodo attuale ricco di vitalità di contatti e spostamenti ma non siete avventati anzi prevale il senso del limite in amore può nascere qualche ombra siate più tolleranti toro giornata sottotono per voi capace di inquinare le relazioni con qualche discussione di troppo i programmi stabiliti spesso subiscono imprevisti e disorientamenti tuttavia rimane venere armonica a consolarvi e darvi una marcia in più nella sfera sentimentale gemelli oggi regna l'allegria il tono dell'umore è alto e avete voglia di divertimento di socialità di novità curiose sono giorni dall'andamento positivo che vi trovano dinamici e attivi pronti a fare qualche esperienza particolare o una vacanza frizzante cancro periodo un po faticoso che solleva il desiderio di eliminare o cambiare una situazione una relazione che ormai è diventata per voi pesante venere nel segno comunque rende le giornate anche piacevoli l'amore è al centro delle vostre attenzioni leone la luna oggi è di passaggio nel segno e accresce la buona comunicazione con chi vi circonda siete forti di una buona forma fisica e mentale e questo vi regala una consapevolezza personale benefica c'è un bel movimento anche nella vita di relazione che vi appaga vergine periodo benevolo addolcito da venere in angolazione armonica che vi inclina ai piaceri terreni alle faccende amorose in questi giorni prevale il senso armonico della realtà e quindi accantonate anche quelle ansie che derivano dalla vostra inclinazione critica bilancia oggi la luna amica vi solleva dalle preoccupazioni e vi regala una giornata più morbida piacevole nella quale il contatto con gli altri è essenziale tonico per la vostra anima in questo periodo qualche insoddisfazione in amore o nel lavoro può rendervi irrequieti scorpione giornata nervosa per voi vi pare che tutto giri nella maniera sbagliata ma non dovete farvi influenzare dalle percezioni distorte del momento occorre impegno nella vostra attività i programmi possono subire variazioni ma tutto sommato procedete a gonfie vele sagittario cielo astrale e favorevole e belle soddisfazioni in questa giornata dai toni alti e frizzanti state attraversando una fase proficua e interessante per i progetti che avviate arrivano novità e conferme gratificanti però non date tutto per scontato capricorno dovete mettere in conto qualche giorno un po conflittuale in amore venere opposta può inclinarvi ad una certa rigidità tuttavia le influenze planetarie di base sono ancora positive e forti e consolidano la vostra posizione agevolano il raggiungimento di un obiettivo acquario luna sole e mercurio in aspetto di opposizione oggi rendono l'andamento piuttosto nevrotico e instabile siete irritabili e potreste discutere con chiunque vi passi vicino meglio non accanirsi su questioni che non potete al momento controllare trovate il modo di rilassarvi pesci giornata ordinaria per voi inserita in un contesto astrale di favore che esalta le faccende di cuore l'armonia con gli amici e molte soddisfazioni in attese oggi tutto procede nella routine ma in ogni caso potete essere appagati e sereni buone stelle